Cambiate il vostro denaro con valuta del tempio! Possiamo cambiare tutte le valute! Cambia il tuo denaro con valuta del tempio! Venite da me, signori! Guarda com'è bella la mia merce! Compra la mia merce, è merce pregiata! Questa è la casa di mio padre! La casa di mio padre è una casa di preghiera e non un luogo di commercio! Noi paghiamo il tributo! Ma loro si preoccupano più di Cesare che di Dio! Loro hanno dimenticato la parola di Dio! Dici dunque che non è lecito pagare il tributo a Roma? Quello è il mio denaro! Di chi è l'immagine su questa moneta? Di Cesare! Allora date a Cesare quello che è di Cesare! E date a Dio quello che è di Dio! Questa deve essere solo la casa di Dio! Questo è solo un luogo di preghiera e non una speranza di ladri! Questa deve essere solo la casa di Dio! Andatevene via tutti! Andatevene via! 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 Israele è chiamato a rinnovarsi! Portatevi a queste cose! Portatevi a tutto! Smettetela di fare della casa di mio padre un luogo di mercato!